Grazie a tutti Grazie a tutti Grazie a tutti Grazie a tutti Perché assolutamente Perché per me basta e avanza Il fatto che in tre vigili hanno tirato A stritolare il braccio a un ragazzo che era in bicicletta Terrorizzato e spaventato Credo che con questo di aver detto tutto Tutto il resto non punta Ma ragazzi è stato un abuso vero e privato Qualcuno ha visto qualcosa di voi? Eh no nessuno ha visto niente ovviamente Sono testimoni?